ma la normalità si ostinava a non venire a un mese di distanza dalla costituzione del governo Saracco il 29 luglio 1900 ora Umberto cadde vittima di un attentato anarchico l'impressione fu naturalmente enorme e annullò in parte nell'opinione pubblica lo sciocco psicologico dell'affermazione delle sinistre nelle recenti elezioni si determinò così nuovamente un'atmosfera di incertezza e di malessere decisamente il paese sembrava non riuscire a trovare la propria strada e il proprio equilibrio ora dopo che i partiti di opposizione avevano condotto una battaglia vittoriosa all'insegno del rispetto della legalità costituzionale questa legalità stessa veniva scossa da un rigurcito del vecchio anarchismo fermentante nel fondo della società italiana perché domani non avrebbe potuto asserlo da un nuovo ritorno dell'area reazione novantottesca eppure la schiarita era più vicina di quanto non pensassero coloro che avendo vissuto la convulsa cronaca dell'Italia di fine secolo non avevano avuto il tempo di realizzare quanto quegli eventi e quell'esperienza abbessero inciso nel profondo dell'opinione pubblica e del popolo attraverso le lotte contro Crispi e contro Pelux si era diffusa in largissimi strati popolari che forse per la prima volta avevano seguito con partecipazione con piena cognizione di causa le vicende della lotta politica e parlamentare la sensazione è che indietro non si potesse tornare e che il secolo XX sarebbe stato quello di un'Italia nuova se ne ebbe la prova quando nel dicembre 1900 avendo il prefetto di Genova decretato lo scioglimento della locale camera del lavoro gli operai del grande porto Ligure della città di Mazzini non scesero in piazza